Allora, oggi vediamo quindi come si risolveva l'ultimo problema di sabato Cominciamo descrivendo il problema Il problema è, abbiamo una foresta che vogliamo abbattere e sappiamo che in questa foresta ci sono n alberi quindi albero 1, albero 0, albero 1, albero 2, eccetera eccetera fino all'albero n-1 Per ogni albero conosciamo la sua altezza hd ovviamente questo quindi sarà hd0, hd1 fino a hdn-1 Ok E cosa sappiamo? Allora, sappiamo che quando li vogliamo abbattere in ordine intanto, quindi vogliamo abbattere prima l'albero 0, poi l'1, poi l'2, eccetera e vogliamo abbattere tutti e sappiamo che quando abbattiamo un certo albero guadagniamo tanti soldi quanto l'altezza di quell'albero quindi quando abbattiamo il primo albero avremo h0 soldi, poi h0 più h1 soldi perché abbiamo anche quelli prima, eccetera eccetera Ora, per abbatterlo abbiamo due modi o possiamo abbatterlo con un'accetta che ha velocità v e quando lo abbattiamo con un'accetta che ha velocità v cosa vuol dire? Che abbattiamo v metri dell'albero al secondo quindi se un albero è alto mettiamo, che ne so, 5 e la nostra velocità è 3 per abbattere questo albero ci metteremo 1 punto qualcosa a secondi però il problema ci dice che è sempre arrotondato per eccesso quindi ci metteremo 2 secondi perché 5 diviso 3 arrotondato per eccesso fa 2 e così via quindi possiamo abbatterlo ad accettate e ci mettiamo tendenzialmente arrotondamento per eccesso di h dell'albero fratto v ok, questo è un modo un altro modo è che abbiamo un'esplosiva che abbatte i prossimi 3 alberi però ci mette tempo y ok, quindi possiamo mettere una carica esplosiva e dopo y unità di tempo esploderà e abbatterà i prossimi 3 alberi e prenderemo comunque il guadagno di quegli alberi un'altra cosa che possiamo fare invece è che possiamo pagare k ovviamente se abbiamo almeno k soldi e prima di iniziare ad abbattere un albero e possiamo farlo solo se abbatteremo quell'albero non se useremo la carica esplosiva prima di abbattere un certo albero possiamo pagare k e fare un upgrade dell'accetta che ne raddopperà la velocità per sempre quindi da quel momento in poi la velocità sarà raddoppiata ok quindi avendo tutti questi dati e se non mi ricordo male avevamo che n era al massimo 10 alla quarta se non mi ricordo male gli hdi erano al massimo 10 alla quinta mi ricordo che k era enorme potenzialmente k era grosso fino a 10 alla 9 sì 10 alla 9 ok quindi k minore uguale di 10 alla 9 e poi sapevamo che v e y quindi la velocità iniziale dell'accetta e quanto tempo dobbiamo aspettare per mettere una carica erano entrambi minore di 10 alla terza ok questi sono i nostri dati vogliamo risolvere questo ah cosa vogliamo fare vogliamo minimizzare il tempo che ci mettiamo ad abbattere la foresta ok quindi date queste mosse che possiamo fare e date l'istanza del problema vogliamo trovare qual è il tempo minimo che ci mettiamo ad abbattere tutta questa foresta bene questo qua subito dovrebbe far scattare la campanellina di programmazione dinamica è vero che non abbiamo ancora visto altri tipi di problemi e quindi ovviamente ancora non possiamo veramente fare un distinguo però ogni volta che vogliamo minimizzare o massimizzare qualcosa e ci sono delle scelte che possiamo fare è come se fosse un po' un gioco e dobbiamo fare delle scelte molto spesso si risolve con programmazione dinamica perché la programmazione dinamica è quell'arte di fare tutte le scelte ma in modo smart per trovare la soluzione bene quindi quando vogliamo risolvere un problema in programmazione dinamica da dove partiamo prima cosa sempre prima cosa sempre vogliamo trovare il caso base e lo stato della funzione e ancora prima magari anche la funzione cioè qual è la domanda che ci vogliamo fare in questo caso lo faccio farò io gli step perché non è facilissimo sto problema mi raccomando se avete dubbi nel frattempo cioè se non capite qualcosa fermatemi perché è importante che capiate quello che sto facendo questo qua è proprio un vero problema che è stato dato l'altro ieri quindi assolutamente non dissimile da una cosa che potrebbe capitare nella gara vera bene quindi prima cosa lo stato pensiamo allora lo stato è la domanda quindi cosa ci chiediamo della funzione è abbastanza ragionevole che la funzione che la funzione chieda dato questo stato qual è il tempo minimo che ci metto a finire perché è ragionevole perché è quello che ci sta chiedendo il problema e è una domanda a cui se diamo come è stato lo stato iniziale cioè quello che non abbiamo iniziato a fare niente allora risponde esattamente alla domanda del problema e quindi è ben risolto il problema quindi per questo è una domanda ragionevole questa qual è lo stato cos'è che ci serve sapere fino a un certo punto per avere tutte le informazioni delle scelte che abbiamo fatto nel passato cioè per avere perlomeno gli effetti delle scelte che abbiamo fatto nel passato in prima istanza cosa potrebbe essere lo stato beh potrebbe essere ad esempio composto da quanti alberi abbiamo già abbattuto e lo chiamiamo non chiamiamolo M chiamiamolo M quanti alberi abbiamo già abbattuto ok quindi almeno sappiamo in che posizione siamo adesso praticamente questo potrebbe essere un pezzo dello stato un altro pezzo dello stato è ad esempio quanti soldi abbiamo ok questo potrebbe essere un altro pezzo dello stato un altro pezzo dello stato potrebbe per esempio essere la chiamiamolo W velocità attuale dell'ascia ok e credo basta cioè nel senso se uno ha tutte queste informazioni se qualcuno ha tutte queste informazioni allora ha descritto totalmente un certo stato del gioco in questo senso cioè nel senso trattiamolo come un gioco è come se vi chiedeste se dovessi salvare il gioco cioè se questo fosse un gioco e dovessi fare un salvataggio quali sono le informazioni che mi devo salvare nel salvataggio per poter riprendere poi da quel punto questa è l'idea di cos'è lo stato questa è la domanda di cos'è lo stato ok il fatto qual è che stimando in avanti cioè stimando già da subito la compressità di questa cosa vediamo molto velocemente che M sono è grosso come N B è grosso come la somma degli H che quindi è potenzialmente H per N e V è ancora più giganorme perché la velocità può raddoppiare ogni volta e quindi V è tipo 2 alla 10.000 quindi vediamo subito che lo stato già è troppo grosso è veramente troppo troppo grosso qualunque complessità verrebbe spaventosamente alta dobbiamo cercare di avere lo stato più risparmioso possibile cioè esattamente come la cosa del salvataggio vogliamo salvare il minimo necessario che ci serve per riprendere il gioco bene allora prima osservazione non ci serve veramente sapere la velocità ok ma in realtà ci basta sapere quante volte l'abbiamo raddoppiata perché se sappiamo quante volte l'abbiamo raddoppiata allora mettiamo che V sia questo numero di volte allora la velocità la possiamo ricavare come V per 2 alla V ok e abbiamo appena ridotto tantissimo quanto può essere grosso V perché prima V poteva essere grosso fino a 2 alla 10.000 per V adesso invece V diventa grosso da massimo 10.000 perché massimo possiamo raddoppiare 10.000 volte perché possiamo farlo una volta prima di abbattere ogni albero e allora al massimo possiamo farlo 10.000 volte e quindi V adesso varia in N quindi già abbiamo levato un esponenziale però comunque esce ancora una cosa tipo N cubo per max H che non è bello allora la prossima cosa che possiamo fare è cercare di levare dallo stato quanti soldi abbiamo perché c'è un'osservazione per levare dallo stato quanti soldi abbiamo che possiamo sapere quanti soldi abbiamo senza dovercelo salvare perché possiamo ricamarlo da queste altre due variabili nello specifico noi sappiamo che se abbiamo battuto M alberi sicuramente abbiamo guadagnato i soldi di tutti questi di tutti i primi M alberi perché per essere arrivati a questo qua abbiamo sicuramente abbattuto tutti quelli di prima quindi abbiamo preso i soldi dov'è che potremmo averli persi i soldi l'unico modo in cui possiamo spendere soldi è comprare l'upgrade dell'accetta cioè pagare K ma quante volte abbiamo comprato questo upgrade dell'accetta lo sappiamo perché abbiamo il numero di volte in cui l'abbiamo fatto quindi il quanti soldi abbiamo sarà la sommatoria da I uguale a 0 fino a M meno 1 di HD ok che sono tutti i soldi che abbiamo guadagnato finora meno quante volte abbiamo fatto l'upgrade dell'accetta per quanto costa l'upgrade dell'accetta quindi in questo modo abbiamo potuto elevare il budget di soldi B dallo stato perché possiamo ricavarlo dall'altro due variabili bene quindi il primo step è stato trovare la domanda ok e trovare lo stato cioè quali sono i parametri della domanda quindi abbiamo detto che la nostra domanda è del tipo F F F di M V dove M è quanti alberi abbiamo abbattuto quanti alberi abbiamo già abbattuto e V è quante volte abbiamo fatto l'upgrade dell'accetta e la domanda e la domanda è se noi abbiamo già abbattuto M alberi e abbiamo fatto l'upgrade dell'accetta W a volte quant'è il tempo minimo per abbattere gli altri questa è la domanda questo è lo stato il prossimo step allora intanto fino a qua tutto ok fino a qua ci sono domande ma io ho un attimo una domanda quando abbiamo detto che il prezzo era sommatoria di tutte le altezze da 0 a M meno 1 si però se abbiamo abbattuto già M alberi dovrebbe essere da 0 a M no perché da 0 a M sarebbero M più 1 alberi perché attenzione questo è incluso la sommatoria è incluso incluso non sento scusa allora la sommatoria in matematichese ha entrambi gli estremi inclusi cioè questa è la sommatoria che va da 0 a M meno 1 che vuol dire quindi 0 1 2 3 eccetera eccetera fino a M meno 3 M meno 2 M meno 1 ok se siamo all'emmesimo albero ne abbiamo abbattuti M ma quelli fino a M meno 1 perché stiamo contando anche lo 0 e sono M ok quindi se siamo se ne abbiamo abbattuti 3 vuol dire che dobbiamo contare da 0 0 cioè H0 più H1 più H2 e basta perché se ne abbiamo abbattuti 3 quali sono i 3 che abbiamo abbattuto lo 0 l'1 e il 2 sì sì ok bene altre domande no ok il prossimo step qual è? il prossimo step è trovare il caso base qual è un'istanza del problema che è talmente semplice talmente ridicola che possiamo risolverla in modo arbitrario possiamo risolverla istantaneamente beh beh se abbiamo abbattuto diciamo molto genericamente un numero strettamente maggiore anzi un numero maggiore uguale di N alberi ok e abbiamo fatto un upgrade di accetta V volte qualunque allora sicuramente il tempo che ci manca è 0 cioè se abbiamo abbattuto già almeno N alberi indipendentemente da quante volte abbiamo fatto l'accetta allora il tempo è 0 perché li abbiamo già abbattuti tutti per forza se ne abbiamo già abbattuti un numero maggiore uguale a N li abbiamo già abbattuti tutti ok quindi questo è il caso base perché è il caso in cui ci rimangono 0 alberi da abbattere e quindi per abbattere 0 alberi ci vuole 0 tempo ok ora in realtà prima di andare avanti di qua ci servirà questa era una programmazione dinamica carina perché ha due programmazioni dinamiche dentro in realtà perché adesso se andiamo avanti in realtà per la strada per cui dobbiamo andare avanti così prima o poi salterà fuori quel sommatorio da U uguale a 0 fino a M-1 di H di meno 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 N no com'è che era meno V per K prima salterà fuori tendenzialmente e il fatto è questo che calcolare questa cosa ci costa potenzialmente un grande di N perché M può andare fino a N e quindi sommare N termini ci costa un grande di N in realtà possiamo fare di meglio che ci serve per avere la complessità che poi ci serve ad avere alla fine nessuno ci vieta di fare una programmazione dinamica che usa al suo interno una programmazione dinamica quindi la prima cosa che vogliamo fare qua è fare una programmazione dinamica che ci dice quanto abbiamo guadagnato abbattendo i primi M alberi perché poi ci servirà dentro F quindi facciamo questa programmazione dinamica G ok e G vogliamo che ci dica quanto abbiamo guadagnato se abbiamo abbattuto i primi M alberi beh se ne abbiamo abbattuti 0 caso base ovviamente la risposta è 0 palesemente se invece ne abbiamo abbattuti M cos'è la risposta la risposta sarà beh quanto abbiamo guadagnato abbattendo l'ultimo quindi H di M meno 1 qua non ci starò mai fatemelo spostare un attimino sì perfetto ok allora dicevo quanto sarà sarà quanto abbiamo guadagnato abbattendo l'ultimo più quanto abbiamo guadagnato abbattendo tutti quelli prima anche qua non ci sono stato fatemelo di nuovo spostare così almeno perfetto ottimo ok questo dovrebbe essere abbastanza ovvio cioè un modo per fare questa programmazione dinamica quindi voglio sapere se ne abbatto M quanto guadagno se ne abbatto 0 guadagno 0 se ne abbatto M allora è quanto ho guadagnato abbattendo l'ultimo ok più quanto ho guadagnato abbattendo tutti quelli prima in questo modo ho fatto una programmazione dinamica che molto tranquillamente possiamo vedere che della cui complessità è O grande di N perché costo della transizione di stato è O grande di 1 perché ci sono un più e il numero di possibili parametrizazioni è 1 O grande di N perché M al massimo può essere N perché ci sono N alberi quindi noi possiamo prima calcolarci questa programmazione dinamica che è O grande di N e poi averla gratis perché una volta che l'abbiamo calcolata sappiamo i valori per tutti quanti i parametri e quindi possiamo utilizzarla nell'altra con costo costante ovviamente ricordiamoci poi alla fine di sommarla nella complessità finale ok fatto questo piccolo discursus troviamo la bestia che è il caso generale ovvero abbiamo abbiamo quindi la funzione F e la domanda che stiamo facendo è se ci mancano ancora M alberi da abbattere e abbiamo fatto l'upgrade già V volte quant'è il tempo minimo che ci serve per abbattere tutti quelli che ci mancano ok come al solito la prima cosa da fare è individuare che scelte abbiamo è individuare quali scelte possiamo fare se facciamo bene i nostri ragionamenti vediamo che ci sono tre scelte chiamiamole scelta A scelta A è quella di semplicemente usare l'accetta alla velocità attuale notare che la velocità attuale non è V perché abbiamo fatto l'upgrade V volte ma quindi la velocità attuale V piccolo sarà V grande la velocità iniziale per 2 alla V ok quindi opzione A il prossimo albero lo abbattiamo a velocità V che è quello che già abbiamo e lo abbattiamo e poi ci spostiamo al prossimo quindi ci metteremo tempo quanto tempo ci metteremo ci metteremo H di M fratto V per 2 alla V arrotondato per eccesso questo è il tempo che ci metteremo ci metteremmo anzi non metteremo che ci metteremmo nel caso facessimo la scelta A dove la scelta è usiamo l'accetta che già abbiamo ok e lo abbattiamo alla velocità standard quindi una scelta è questa è la scelta perfetto poi chiamiamo come scelta E usare l'esplosivo ok quindi se usiamo l'esplosivo cosa sappiamo? sappiamo che ci mettiamo tempo Y fissato sempre Y ma invece di andare al prossimo ok mentre questo qua cancello la funzione G tanto spero sia chiara se vi faccio un pochino di spazio ok allora questo qua abbiamo detto l'opzione A ci mandava poi a averne abbattute M più 1 invece di qua ci mettiamo tempo Y e andiamo invece a M più 3 perché ne abbiamo battuti 3 ok ci abbiamo messo tempo Y ma ne abbiamo battuti 3 e quindi possiamo andare avanti di 3 ultima scelta è la scelta I sto usando le lettere che usano loro nel testo non hanno cioè a parte A forse che sta per accetta ed A che sta per esplosivo I non ho idea di per cosa stia forse improvement e la scelta I invece è invece di abbattere l'albero così prima pago K ok pago K e faccio l'upgrade dell'accetta e poi lo abbatto quindi intanto I non posso sceglierla sempre posso sceglierla solamente se il budget che ho e il budget che ho cos'è sarà Gdm ok meno V per K perché è quanto guadagnato abbattendo gli alberi meno quanto ho pagato in passato posso farlo solamente se questa cosa è maggiore uguale a K cioè se ho abbastanza soldi fondamentalmente quindi se questa condizione mi vale allora cosa posso fare posso dire che il tempo che spenderò sarà sempre all'attornamento per accesso di hdm che è l'altezza dell'albero attuale fratto v per 2 alla v più 1 perché ho raddoppiato e quindi ho aumentato l'esponente di 1 questa cosa mi porterà ad avere m più 1 ma anche ad avere v più 1 ovvero mi sposto al prossimo albero ma ho anche fatto un upgrade in più quindi abbiamo tre scelte la a la e e la i e cosa dobbiamo fare? dobbiamo provarle tutte come sempre come in qualunque programmazione dinamica dobbiamo provarle tutte e poi prendere in questo caso il minimo perché noi stiamo cercando di minimizzare il tempo ok e quindi vogliamo prendere il minimo quindi allora cosa sarà questa fdmv sarà il minimo tra cosa abbiamo? o facciamo la scelta a e quindi non ci starò mai e quindi cosa facciamo? paghiamo di tempo hdm questo qua non è un m hdm fratto v per 2 alla v ok quindi questo è il tempo che paghiamo per abbattere quest'albero più il tempo che pagheremo ad abbattere i prossimi m meno 1 m più 1 perdono perché abbiamo battuto uno in più v questa è la scelta a ok che adesso comprimo perché se no non ci sto questa era la scelta a e comprimo scrivendo a poi la scelta e la scelta e cos'è? paghiamo y per mettere la carica esplosiva e poi ci servirà il tempo di abbattere gli altri alberi che rimangono però attenzione non è m più 1 ma è m più 3 perché ne abbiamo abbattuti 3 con la carica esplosiva e quindi ci spostiamo a 3 dopo facciamo la stessa domanda ma partendo da 3 dopo invece che da 1 dopo questa era la scelta B ultima scelta che possiamo fare la scelta sì io l'ho chiamata B ma non si chiama B si chiama E perdono ultima scelta che possiamo fare possiamo decidere di fare l'upgrade dell'accetta e poi abbattere l'albero in questo caso ricordatevi possiamo farlo chiamiamola i minuscola possiamo farlo solamente quindi questo minimo sarà minimo tra questo e questo e l'ultimo è solamente se è vero i cioè se è vero questa condizione se no non possiamo farla questa scelta quindi se possiamo farla mettiamo anche questa in conto se non possiamo farla teniamo in conto solo di A e di E cosa sarà questa qua sarà arrotornamento per eccesso di HDM fratto V per 2 alla V più 1 perché abbiamo fatto l'upgrade dell'accetta più bene abbiamo battuto uno in più e abbiamo fatto un upgrade in più cioè abbiamo fatto un upgrade ok e quindi la terza scelta è devo tornare indietro un po' di volte ok la terza scelta è I che possiamo farla solo se vale quella condizione là perché appunto dobbiamo vedere quali sono tutte le scelte ma dobbiamo fare solo quelle legali cioè quelle che possiamo fare nello spazio di tutte quante le scelte possibili facciamo solo quelle legali ok e questa è la soluzione questa è una soluzione corretta bene ok questa è una soluzione corretta domande fino a qua io spero spero vivamente che non vi siete persi anche se vi siete persi ditemelo perché piuttosto ripeto ma è importante che abbiate i passaggi ed è importante che capiate il ragionamento perché questa qua è proprio la base base della programmazione dinamica questa è applicata a un problema non banalissimo però comunque è la base del ragionamento ok ultima cosa che dobbiamo fare è stimarne la complessità computazionale perché ci serve saperlo per vedere se il tempo che ci metterà a risolvere questo problema è ragionevole o no come si calcola costo di transizione dello stato costo di transizione dello stato per numero di stati cominciamo dalla transizione dello stato notare che sia a che non fanno altro che moltiplicazioni e somme in realtà a ha anche un elevamento a potenza l'elevamento a potenza se lo si implementa come v volte 2x2x2x2x2 in realtà costa tanto però lo vedremo esiste un algoritmo che si chiama fast exponentiation che ci permette di calcolare 2 alla v o più in generale b alla e invece che in tempo grande di e che sarebbe la cosa standard facendo b per b per b per b e volte ci permette di calcolare questa cosa in tempo o grande di log e dove è questo coso è questo numero qua non la costante di eulero ok quindi per ora facciamo finta che questo elevamento a potenza ci costa poco in realtà è vero ci costa poco quindi per ora facciamo facciamo finta non è precisissimo facciamo finta che sia costante se volessimo essere anzi possiamo fare anche i precisi questo v al massimo può essere grosso come n perché il numero di upgrade possiamo fare al massimo un upgrade quindi fare questa esponenzazione ci costa o grande di log n alla peggio facendo usando quell'algoritmo che si chiama fast exponentiation che poi vedremo ok quindi cosa è la transizione dello stato di a log n cosa è la transizione dello stato di e costante dovremo prendere il massimo ricordiamoci costo di stato di transizione di i i a parte l'esponenzazione che appunto ci costa log n sappiamo già che ci costa log n fare questo 2 e la v più 1 perché se dobbiamo fare uno in più chi se ne frega è comunque uno grande ci abbiamo anche un'altra cosa peculiare che invochiamo questa funzione g quindi questa funzione g ci serve ricordiamoci però che anche quella è una programmazione dinamica e quindi ci costa tempo costante invocarla ci costa tempo costante sapere il suo valore quindi in realtà è tutto dominato da questo o grande di log n quindi il costo della transizione di stato il costo di calcolare della transizione di stato ci costa o grande di log n perché nel caso a ci costa log n nel caso ci costa costante nel caso i ci costa log n e allora il massimo tra questi è log n il secondo termine è il numero di possibili funzioni cioè il numero di possibili invocazioni quindi ci dobbiamo chiedere la variabilità di ogni parametro m è quanti alberi abbiamo già battuto e gli alberi sono n e quindi non abbiamo potuto abbattere più di n quindi questo parametro potrà valere solamente valori tra 0 ed n che è quindi uno grande di n il secondo parametro è quante volte abbiamo fatto l'upgrade e anche qua possiamo fare l'upgrade al massimo una volta per albero e l'abbiamo visto qua perché è l'unico momento in cui incrementiamo questo v e quindi anche lui ha una variabilità di o grande di n questo vuol dire che il prodotto delle variabilità ci dà che la variabilità è uno grande di n quadro ok facciamo il prodotto delle costo di attrazione di stato per il numero di stati e otteniamo che quindi il costo di quest'algoritmo così come l'abbiamo descritto questa programmazione dinamica è n quadro per log n ok ci sono domande nel calcolo del costo della complicità computazionale ma io non ho capito bene perché chiamare chiamare g è costante perché allora g ah tra l'altro mi sono dimenticato evidentemente che dobbiamo mettere in scena anche il costo di g però rimane uguale perché sarà o grande di n più questa roba qua allora g era una programmazione dinamica noi sappiamo che una volta che abbiamo calcolato i valori di di una programmazione dinamica quindi un certo f di qualcosa che dove f è una programmazione dinamica non importa non importa quante volte ci chiediamo quanto valore abbia dobbiamo calcolare solo una volta quindi se l'abbiamo già calcolato il costo poi è costante cioè o grande di 1 costante uguale o grande di 1 ma allora se g è una programmazione dinamica e noi la calcoliamo per tutti i valori fino a n che tanto è il massimo che ci serve perché m al massimo può essere n quindi possiamo calcolare fino a quelli valori calcolarla abbiamo visto che ci costa o grande di n ma se poi la utilizziamo qua dentro ci costate un po' costante e che ha adesso? perché dopo che l'abbiamo chiamata una volta poi basta esatto perché dopo che l'abbiamo precalcolata dopo che l'abbiamo calcolata già prima che è questo fattore o grande di n che c'è qua tutti i valori ce li abbiamo già quindi alla fine quando calcoli la complessità viene ah sì ok viene o grande di n più o grande di n e quadro lo grande però se i sommi questo qua se ne va perché è un termine non di grado massimo ok va bene ok questo è il motivo per cui è costante ultima cosa da fare è chiediamoci quanto chiediamoci quanto tempo ci mette circa chiediamoci quanto tempo ci mette cosa dobbiamo fare dobbiamo calcolare quanto vale n quadro lo n per i parametri che abbiamo in realtà abbiamo solo n quindi è 10 alla quarta quindi cosa sarà sarà 10 alla quarta per 10 alla quarta che fa 10 all'ottava per il logaritmo di n 10 alla quarta è 10.000 il logaritmo il logaritmo vi dico io che vale circa 14 si direi che 2 alla 14 è più di 10 alla quarta quindi possiamo dire 14 quindi abbiamo detto che 10 alla 18 è circa un secondo per fare uno di questi calcoli ci metterà circa 14 secondi che in realtà per le regionali vi dirò va bene poi in realtà in pratica ci mette meno perché dipende molto è una stima questa ci mette sull'ordine dei 14 secondi magari ce ne mette 10 magari ce ne mette 20 magari ce ne mette 1 magari ce ne mette 100 è una stima però è ragionevole per le regionali è una stima ragionevole per le nazionali assolutamente no ma per le regionali è una stima ragionevole e che è quella in realtà che se voi andate a vedere lo streaming della gara che ho fatto questa è la soluzione che ho usato io e ha questa complessità e infatti i test case non li risolve istantaneamente ci mette 1-2-3 secondi ok ok ultime due osservazioni possiamo fare di meglio in realtà c'è un'osservazione di questo problema che ci permette di abbattere questa complessità computazionale osservazione che in realtà io in gara ce ne è venuta in mente però non ho fatto non ho implementato perché tanto questa complessità già andava bene e alle regionali ripeto va bene se non fosse state alle regionali invece non andava bene questo perché ci mette più di un secondo allora c'è un'osservazione che possiamo fare che però non vi dico non vi dico perché ve la lascio per esercizio se qualcuno riesce a trovarla però c'è un'osservazione in questa programmazione dinamica che si può fare che abbatte la complessità cioè abbassa questa n quadro bene ci sono domande ok non ci sono domande allora ok non ci sono domande non ci sono domande non ci sono domande non ci sono domande